il 4 marzo bisogna votare il partito democratico perché c'è una generazione quella degli under 30 che non ha nessun punto di riferimento per la propria vita non sa se quello che sta studiando gli servirà per poter sviluppare una propria identità avere un proprio posto nel mondo perché c'è una generazione è entrata nel mondo del lavoro da precaria e probabilmente tale rimarrà questa generazione è la generazione che già dieci anni fa si è opposta con forza alle politiche della destra per esempio in materia appunto di formazione e di scuola oltre di università in questi dieci anni molto è rimasto immutato per la prima volta il governo renzi ha investito molto sulla formazione sulla scuola sull'edilizia scolastica non basta ne siamo consapevoli ma siamo riformisti siamo progressisti e quindi una gamba dopo l'altra cerchiamo di portare questo paese fuori dalla valore il 4 marzo si vota il pd proprio per questo il 4 marzo si vota il pd proprio per questo il pd proprio per questo